ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono claudia e oggi vediamo insieme come realizzare una sicily una mini sicily la realizzeremo di questo colore rosso almeno io la realizzeremo rossa utilizzere il cordino spaghetti e poi avremo bisogno di un fondo in vera pelle di questa misura che è 25 x 12 cm con piedini e un manico sicily da 25 cm in questo modo fatto così questo inserto è realizzato in vera pelle di produzione artigianale e la trovate sul nostro sito www.merceriamari.it insieme a tutto il resto del materiale oltre a questo ci occorrerà un uncinetto numero 3 e mezzo con cui andremo a lavorare il filato una cutina fettuccia della rete per indurire e ovviamente se la fodera per foderare la vostra borsa in questo tutorial faremo un piccolo esperimento nel senso che molti di voi mi hanno chiesto che avrebbero piacere di avere delle schede tecniche oltre al video tutorial allora adesso proveremo a proverò a vedere se questo modo vi può piacere e se può funzionare farò un video tutorial dove vedremo solo l'assemblaggio della borsa mentre sul nostro sito potrete scaricare gratuitamente la scheda tecnica dove vi spiego passo passo tutta la lavorazione dei vari pannelli, il punto che ho usato e tutto nello specifico quindi mixeremo le due cose c'è il video tutorial per l'assemblaggio che magari è un po' più difficile anche da spiegare per scritto e poi sul sito potrete scaricare la scheda tecnica invece per realizzare tutto il punto i pannelli e le varie cose vediamo se questo sistema vi può piacere potete anche farmelo sapere nei commenti se preferirete in futuro avere questo genere di video quindi scheda tecnica affiancata al video tutorial o se preferivate il modo di prima dove nel tutorial viene spiegato tutto passo passo dall'inizio alla fine della borsa quindi vediamo facciamo un esperimento con questo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate allora come vi dicevo prima faremo la scheda tecnica quindi adesso io non vi mostrerò come si realizzano i pannelli comunque la borsa la realizzeremo in questo modo ovvero fondo in centro pannello davanti pannello dietro realizzato appunto nocciolina in questo modo faremo i laterali a forma di goccia staccati separati vedete che io li ho già realizzati ne servono due ovviamente che andranno poi posizionati in questo modo e poi ci servirà il pannello della patta che vedete che è questo qui ok quindi nella scheda tecnica che ripeto potete scaricare gratuitamente sul sito www.mercediamari.it trovate tutta la spiegazione del punto utilizzato di quanti punti mettere di che altezza realizzare i pannelli eccetera qui nel tutorial vedremo solo come assemblare la borsa una volta che invece i pannelli sono già stati realizzati quindi adesso andremo subito a vedere come procedere per l'assemblaggio della borsa allora come prima cosa io vorrei andare ad attaccare la chiusura nella parte esterna cioè nella parte del dietro della borsa quindi adesso andrei a posizionare e poi andremo direttamente a cucire questo l'andrei a fare come primo passaggio ok quindi il manico ha queste due vitine sul retro che sono quelle che determinano che questo è il retro dell'inserto mentre questa parte qui che non ha le viti è il dritto quindi l'andremo a prendere sul retro prendiamo uno dei due pannelli quello che appunto sarà il dietro della nostra borsa e come prima cosa andiamo subito a a cucire l'inserto al pannello di noccioline che abbiamo fatto quindi adesso vado a prendere l'ago di la fettuccia vi faccio vedere come cucire allora come dicevo siamo andata a posizionare il pannello esattamente all'interno del mio inserto in questo modo prendiamo un ago di la fettuccia con una pugliata di filato all'estremità della quale abbiamo fatto un bel notino adesso facciamo passare vedete che con l'ago sono entrata prima nel pannello e poi già nel primo foro e tiro e faccio passare il filo e andiamo a fare il punto di cucitura attenzione perché andremo ad attaccare solo questo lato dell'inserto al pannello non l'altro perché all'altro andrà attaccata la patta quindi mi raccomando solo questa parte qui che vedete a vista l'altra che ce lo diciamo sotto non va presa in questo in questa cucitura ma vanno lasciati fuori liberi ok quindi adesso entro nel foro successivo passo nel pannello lavorato ed estraggo in questo modo dopodiché quindi posso in questo modo procedo in questo modo fino al termine del rigo passando a passando così e andando a cucire il pannello all'inserto allora guardate ho fatto il punto di cucitura quello che vi dicevo prima è che vedete che questa parte è staccata mentre sono andata ad inserire leggermente all'interno a sovrapporre un pochettino l'ultimo giro di maglia bassa del pannello che è quello che siamo andati a prendere qui con il punto della cucitura adesso arrivati al fondo dobbiamo tornare indietro e andare a riempire tutti gli spazi mancanti per completare la cucitura per rafforzarla ulteriormente quindi con l'ago torno indietro sempre prendendo il pannello lavorato all'uncinetto e l'inserto e vado a fuoriuscire in tutti gli spazi che tra virgolette mi sono rimasti vuoti vedete così e vado a completare la cucitura in modo che siano tutti gli spazi riempiti procediamo così fino al termine del giro allora i pannelli sia per quanto riguarda i laterali sia per quanto riguarda la patta che per quanto riguarda il corpo borsa vanno tutti sempre scontornati per scontorno si intende un giro di maglia bassa su tutti i lati soprattutto sui due lati questi due diciamo ok però si prevede un giro dove si borda a maglia bassa l'intero pannello vedete che io sono qui e sto bordando quella che è la mia patta così vediamo insieme anche come si fa lo scontorno questo vi permette di avere i bordi non frastagliati ma perfettamente squadrati e lineari e vi faciliterà anche poi nell'assemblaggio della borsa quindi importantissimo mi raccomando scontornare tutti i pannelli vedete in questo modo vado a fare una maglia bassa per ogni punto arrivati sull'angolo facciamo una maglia bassa nell'ultimo punto una catenella e un'altra maglia bassa nello stesso punto questo ci permette di fare l'angolo stondato di girare e proseguire a scontornare l'altro lato vedete in questo modo quindi procediamo a bordare e scontornare tutti i nostri pannelli se non l'abbiamo già fatto questo è come si fa ricordatevi sempre sugli angoli di fare l'aumento quindi due maglie basse una catenella io generalmente faccio così perché vi permette di fare la curva e di girare come si deve stessa cosa anche per i laterali mi raccomando vanno tutti scontornati e bordati come potete vedere e la stessa cosa anche per i pannelli che compongono la borsa attaccati al fondo allora una volta che avete scontornato anche il pannello della della vostra patta andiamo a posizionarlo qua sotto nell'altra parte diciamo dell'inserto e come abbiamo fatto prima con il dietro della borsa lo andiamo ad attaccare ok quindi lo andiamo posizionare ben bene in questo modo prendiamo di nuovo il nostro agotira frattuccia con una bella pugliata di filo ci facciamo il nodo al fondo e esattamente come prima andiamo a fare il punto di cucitura unendo la pattina procediamo fino al termine del giro quando arriveremo al termine del giro torniamo indietro esattamente come abbiamo fatto prima per andare a riempire i punti vuoti e così avremo assemblato anche la patta al resto della borsa nonostante la borsa sia già abbastanza rigida perché vedete che se la chiudo lei comunque resta abbastanza in forma non è proprio molle 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 vedete che comunque la forma la tiene ciò nonostante ho deciso di indurirla ulteriormente con la rete quindi ho tagliato dei pezzi di lette della dimensione dei miei pannelli e andrò ad attaccarne uno qui uno qui e penso che al 90 per cento ne metterò uno anche sulla patta non ho ancora deciso adesso vediamo quando ho indurito questi due pannelli vi dico se indurisco anche la pattina oppure no quindi per tagliate la rete della misura che vi occorre si prende un agotirafettuccio di nuovo con una gugliata di filo e si va ad attaccare quindi entriamo qui all'interno del pannello e ci fissiamo passo attraverso la rete in questo modo e poi ogni tot di punti non è necessario che vi passate dentro tutti i quadratini potete fare tranquillamente dei punti lunghi in questo modo andiamo a fissare la rete al pannello vedete che io passo in un po di quadratini in questo modo prendendo sempre anche il pannello perché ovviamente dobbiamo attaccarla e facciamo questo tipo di cucitura quindi andremo ad attaccare la rete su tutti e quattro i lati da questo pannello e l'altro pannello dall'altra parte sicuramente la patta non lo so forse la lascio così adesso vi faccio sapere una volta che ho assemblato i due pannelli e vi dico confermo di aver indurito con la rete solo i due pannelli la pattina no perché tanto resta già rigida di sé il cordino gli da già la resistenza la consistenza giusta non c'è non è il caso secondo me di andarlo a indurire ulteriormente adesso vediamo come attaccare il laterale allora vedete ho preso il laterale sono andata con due marker marker a posizionarla qui sul fondo esattamente dove deve andare in questo modo perché adesso alzeremo il lato e vedete che lo facciamo combaciare esattamente così e così dovremo andarlo a fissare e a unire quindi lo uniamo a uncinetto ci prendiamo il nostro filato facciamo un cappietto andiamo inserirci qui in punta nella lavorazione nel punto di scontorno prendiamo la solina più esterna del punto di scontorno del laterale e la stessa cosa non diamo a fare qui nel lato del corpo borsa e ci uniamo facendo una maglia bassissima io faccio una maglia bassissima non basta non si può fare una maglia bassa e resta una costina in rilievo io vado a fare maglia bassissima e andiamo in questo modo ad unire vedete che lo posiziono così l'intero lato in questa maniera quindi asolina asolina e punto bassissimo ma solina solina e punto bassissimo quindi procediamo in questo modo andiamo ad attaccare tutto il lato quando arriviamo qui al fondo andremo nello stesso modo da cucire il fondo e poi tireremo su l'altro lato e andremo ad unirlo ancora prima di fare questo passaggio se volete foderare la borsa a pannello quando è aperta vi conviene farlo prima di attaccare il laterale io fodererò la borsa una volta chiusa non c'è nessuna diciamo diversità anzi forse foderare la pannella una volta aperta è leggermente più semplice che foderare la borsa chiusa a livello proprio di taglio cucito ma potete fare come come preferite se volete foderarla avendo i pannelli aperti prima di attaccare il laterale dovrete andare a foderare e a ricoprire la rete che avete messo altrimenti potete chiuderla come sto facendo io poi foderarla in un secondo tempo ok quindi procediamo in questo modo andiamo ad attaccare tutto il laterale guardate ragazzi e ragazze ho terminato la sicili questo è il risultato guardate che bello con il manicotto l'inserto in pelle la patta sono andata ad attaccarci due calamite vedete qui l'ho foderato innanzitutto l'ho foderata tutta ho foderato sia la patta che l'interno la patta come vi dicevo non ha la rete infatti lo vedete anche dalla morbidezza non ha la rete mentre gli altri pannelli come vi avevo fatto vedere sì comunque sono andata a foderare il tutto sono riempita ma se no ho fatto anche il taschino tutto quanto come si deve sono andata a posizionare qui due calamite in corrispondenza qui in modo che la patta quando si chiude stia bella attesa e tirata e questo è il risultato sono veramente molto 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 soddisfatta mi piace veramente tanto spero che piaccia anche a voi se provate a realizzarla mi raccomando sul gruppo di facebook maria amiche uncilettine postate le vostre foto delle vostre creazioni io vi mando un bacione mi raccomando fatemi sapere anche se questo nuovo tipo di tutorial affiancato alla scheda tecnica può essere di vostro gradimento possiamo continuare a fare così anche per altri progetti un bacione ciao